Sabato 3 ottobre, in occasione del processo ai danni di Matteo Salvini, sarò personalmente a Catania insieme a una delegazione di Fratelli d'Italia per portare alla nostra solidarietà al segretario della Lega e per ribadire un concetto per noi fondamentale. Un ministro non può essere processato per aver fatto ciò che la gran parte degli italiani chiedeva, per aver difeso la legge italiana, per aver difeso i confini nazionali dall'immigrazione illegale.